Ok, siamo su Field Z, o come caspita si chiama, è una modalità dove ci sono cose belle, dove ci sono gli zombie, dove ci sono... Però, 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 adesso la tizia dice Benvenuti studenti al vostro primo Robloxian High School, che è la scuola dei Robloxian Il suo nome è Mrs. Karen, beh, pensate voi Ci sono un sacco di attività da fare nella scuola Questa classe sarà la vostra per studiare espresso Buona fortuna, e ricordate, non fate pause, non riesco a leggere It's very first day of high school, cioè nel senso è il primo giorno di high school Insomma, hai capito, insomma, dobbiamo andare dentro ad esplorare questa scuola molto misteriosa Esploriamo, esploriamo Esattamente, quindi io vado E poi ho visto che ci sono più finali Davvero Sì, perché io prima, quando ho finito il gioco, no? Mi è uscito scritto E questo, mi è uscito scritto tipo Un finale su tre, tipo Sì, perché Dunisiani, voi dovete sapere che noi questo gioco, questo video l'abbiamo già registrato Però, l'audio si è sentito male, quindi adesso lo dobbiamo rifare tutto qua Ma Ok, poi sono tornato Salve, Angelo, salve Eh, beh, beh, beh Eh, comunque siamo nel video, eh Allora, quindi Eh, sì, ciao Ciao ragazzi Allora Eh, io sto esplorando la scuola Comunque adesso ho paura di andare troppo in giro Perché poi dopo magari iniziano le lezioni Allora, sono la prof con la faccia endemoniata Ma cosa? Davvero? Guardala, io sono andato avanti Ah, no, agli occhiali Eh beh Guarda 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 Aiuto Esattamente Mamma mia Gian Giuberto Io ho Sì, mannaggio Gian Giuberto Eh, andiamo in classe Andiamo o no? No, skip Andiamo Facciamo Allora Schipiamo Schipiamo la classe Allora, perché questa Perché Nello scorso video Siamo stati in classe Però voi non avete visto lo scorso video Perché non c'è mai stato Eh, facciamo filone Ecco, ecco, ecco Ecco il bullo Il bullo È un bullo Eh, guarda The bully Hey, punks Ho sentito che volete Skippare Insomma Andarveni dalla classe Va troppo veloce questo cosa Perché poi io devo tradurre tutto in inglese, no? Quindi Cioè, l'inglese, capito Non è così immediato per me Sì Metti The bully out from Andiamo a dargli le mazzate Vediamo questo bully Dai, su Mamma mia Guarda Let's go Follow me Eh, guarda Io sono la metà di lui Eh, sì, è vero Ma anch'io, eh Ma io Vabbè Più No, io di più No, io più No, io più Più, più Chiara No, no, no No, allora Quali ti chiamo Quali ti chiamo Cosa sta facendo No, nemmeno a me Nemmeno a me Eh, buongiorno 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 Ma che persone delinquenti che siamo Scusami Stiamo saltando dappertutto Non si fa Dovremo essere educati Educati E poi abbiamo anche saltato Dov'è il cibo Dov'è il cibo Dov'è il cibo, lady Signorina E dice I militari Ci hanno fatto vedere Prima che Di prendere Le provviste Loro hanno detto Che è stato molto Che è per uno scopo Molto importante Hanno detto i militari Capito? C'è E quindi c'è tutto questo Mistero Ma cosa vogliono i militari Perché ci hanno preso I nostri snack preferiti Perché ci hanno preso Le ciupaciu Perché ci hanno preso Perché ci hanno preso Le patatine Le pringles Perché? Attimo che io Faccio questa cosa qua Perché se no Faccio cadere qualcosa Non voglio C'è qualcosa che sta Che sta Bollendo in pentola Qua dentro Dice la signora Tutta quanta così Tutta quanta No Mi sa che è stato Il bullo Vabbè C'è il bullo che fa C'è qualcosa Ebbè Ebbè Ma è un bullo Dopotutto Tutta quanta così Tutto quanto rinco Il signor bullo Guarda Guarda Il professore Il professore Il professore Oh no Cosa stai facendo Bambini fuori dalla classe Ma scusi Nel senso Siamo Via via Scappa Niente signore Dice Dice chiacchiera Eh ma non possiamo scappare Io sto Prendendo Sto Sì 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 Vi prenderò a scuola Cioè vi porterò a scuola Venite con me Questo è il principe pal Che rompe le scatole Sempre Sempre Comunque Preside Assolutamente Assolutamente sì Il preside Schifoso Eh Ritornando a scuola Siamo in classe E guardate un po' Puoi piove E dice Per avere Sì esatto Siamo in punizione Per aver Schippato Cioè nel senso Per aver saltato La scuola Perché siamo Bambini cattivi Ops Scusate Scusi signore Io risalgo E non volevo Sia ma Cos'è stato Ok perfetto Come non hai sentito Esatto Cos'è stato quel suono Dice Denisoul È stato un suono Non è stato niente Dice Io andrò ad investigare C'è tutto quanto Il preside che fa Con la lente Di ingrandimento Che va ad investigare No Tipo A vedere le tracce Tutto quanto rinco Certo Allora Ma non è andato Ok Meno male Meno male Però cosa Vediamo amici Magari qua fuori Dalla finestra Si vede qualcosa Quella No Mi spiace Mi spiace Correggione Allora Allora No Aiuto Mi sto preoccupando Sia mai Che noi qua moriamo No io non voglio morire Stiamo tutti Tutti attenti Amici Come prima Che stupido Denis Sono un tiktoker Basta La smetto Allora Vai Dalla finestra Cosa Che brutta cosa È uno zombo Guardatelo Che brutto No però è un po' inquietante Posso dire questa modalità Cioè Eh che brutto Si sta dando le capocciate Sulla Vuole aprire Vuole spaccare Eh Dovemo andarcene Io direi Ma c'è chiuso dentro Quel Quella persona Molto Ci ha chiuso dentro E ora noi Come facciamo A scappare Se il signore È Chiuso dentro No Non mi piace Magari qua c'è una botola C'è un qualcosa Che si può fare Qua no Perfetto Siamo in trappola Dunisiani Però tranquilli Che c'è il preside Signore Signore Scappi Scappi Se ne vada Via No Eh meno male Allora Signor preside Guardi c'è stato Una cosa molto brutta Dice che c'è stato Un cortocircuito Alle luci Eh io dico Eh c'è stato C'è stato uno Quasi uno zombie Stavo per dire Però lui dice Sì per un secondo Esatto Per un secondo Il mio computer C'è un messaggio E lui dice Oh breaking news Ci sono gli zombie In città Ok tutto quanto così State attenti Agli zombie Da fuori Dice Dice il preside State in casa E se serve Proteggete le vostre famiglie Famiglie Le famiglie Esatto Donald Trump Dice non mi fido Di questi Lab guys Ok Molto interessante Sì Adesso ci dobbiamo Armare Allora La mazza La prendo anch'io Però perché Sennò Mi banno Allora Però io Come caspita Faccio di illuminare Perché in questo modo Dovete sapere Che non si vede Niente Proprio Zero Il zero più totale Qua io modifico Il microfono Perché Sono una persona Molto brava Vediamo Quattro ore dopo Eh Cos'è che è successo Quattro ore dopo Però non si vede In capola Comunque Allora dice Dov'è il preside Dice Denisoul Che sarei io Sono passate quattro ore Eh sì Giusto Devo prendere la mazza Perché Ve la do in testa La mazza Vieni qua Vieni qua brutta Eh Tutto scurreggione No Tu sei la brutta Allora tu sei la scurreggione Perché sono procione Scurreggione Quindi non usare mai più Darmi l'igname Che ti ho dato io Guarda sempre la porta Attenzione Allora Adesso il silenzio È molto inquietante Duniziani Voi sentirete il silenzio Perché adesso noi La porta Eh la porta Dice Angelo Cos'è stato questo Che schifo E dice State calmi Sarà solo la polizia Che è Sara Che è venuta a salvarci Sì sì La polizia La polizia amici È vero Guarda c'è Angelo C'è Angelo La polizia Ciao poliziotto Donut day Ma cos'è Ma prima c'era il Eh infatti c'era lo zombie Prima perché adesso c'è Infatti ogni decisione Cambia il gioco Ecco perché Dice Siete fortunati Ad essere vivi Donut day Dice così Angelo Angelo Se n'è andato Per la sua strada Gian Giuberto Gian Giuberto Canto la musica Di Gian Giuberto Mamma mia cos'è Guardate Ballo E anche canto però Scappiamo Scappiamo Amici Amici Scorreggiate Perché così scappiamo Più velocemente Cosa sta facendo Questo è scemo Ma è scemo Scusami Oh No Tranquilla Ci sono io Ci sono io No scherzavo Andiamo Aspetta che c'è il poliziotto Che non sta facendo un cavolo Sta pensando solo ad scappare Ma scusi Io sarei un bambino Comunque Ah, e infatti Ma perché ci ha chiamato kids Quella là, la presi dall'inizio Ma perché è stupida E infatti, ma ti immagini Ok, via Scappiamo, amici No, aspettate, aiutatemi, aiutatemi Ho uno zombie dietro di me, ok, perfetto Avevo uno zombie che ho ucciso Grazie per la... Eh, lo so, è stato lo zombie schifoso Scappiamo, scappiamo, scappiamo Ora ti vedo io Grazie, ah, ma anch'io ho il medichi Io posso curarmi No, non lo so il medichi, tu se la ben È troppo tardi, vero? No, non è troppo tardi Assolutamente no Luca, dobbiamo saltare per scappare Ma sei morta? Perfetto, vabbè, fai niente Adesso puoi responare in teoria, no? Sì, sì, una volta puoi responare Cosa devo fare? Cioè, devo spettare i secondi? Aspetta i secondi, esattamente, esattamente Chiacchiera, però mi raccomando Non è che io ti voglio mettere pressione Però, insomma, poi Angelo Non si sa, è un percorriere o provetto Allora, io voglio usare il medichi Perché se no qua Ci sono, anch'io Bravissima Ma com'è che faccio a Ad usare il medichi, scusate? Se lo prendi in mano e premi un attimo Stai fermo, però Premi il tasto Eh, sto premendo il tasto Una specie di furgone Perché parla tutto da scemo? Sì, dai Dagli zombie Dagli zombie con gli occhiali Cioè, vedete? Cosa ha fatto, scusate? Io non ho visto perché ero girato Sto fermato Ah, molto bello Allora, vediamo Ma perché noi siamo dentro un blocco, tipo? Ma mi è vestita Eh, infatti No, sto vibrando Non vibrare, Chiara Brutta, sporcacciona Allora, quindi Cosa dobbiamo fare? Eh, mo Niente Oddio, chiacchiera zombie Niente Eh, avete visto? Guardate che brutta Mamma mia Ok, si è smontato Eh, ma vabbè Allora, noi dovremmo preoccuparci Di noi stessi Dice Lusia Andate nella 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 macchina E partiamo Dice il poliziotto Ok Va bene, signor poliziotto Ciambella Andiamo, signor poliziotto Sotto ciambella Portaci, porti Al posto desiderato Così ci salvi la vita Perché lei, ovviamente Il poliziotto è che ci deve salvare la vita Non il contrario, ovviamente Da questa parte Troverete più cose, diciamo Seguitemi E noi possiamo prendere Diciamo Non ho capito Sapete un po' L'inglese Insomma Ebbè Perché lui vorrebbe sempre essere Proprio benissimo Allora Buone notizie Abbiamo qualcosa C'è uno zombie che sta saltando Che significa Io credo sia uno zombie State indietro Dice il poliziotto Starò per sparare Mamma mia Aiuto Guarda Scusa qua c'era sempre Vabbè Insomma ci sono cose Ok qua E noi dobbiamo fare altre cose Amici Quindi E non rompete le scatole Noi dobbiamo andare da questa parte Perché io lo so Quindi Dice Ah mi curate Mi curate Eh non ho più niente Sono morta Grazie Fermo Ma serve Ah Grazie Grazie millissima Allora Sembrano molto pericolose E dangerose Non so di cosa stia parlando Ha una ciambella al posto delle chiavi Molto intelligente Allora Sweet mama Allora Non dobbiamo andare nei cerchi rossi Perché altrimenti gli zombie Ci prendono Ci uccidono E ci fanno fuori Quindi Cosa dobbiamo fare Soprattutto io Esatto No soprattutto io Allora Prima di tutto Angelo Aspettaci Perché se no Ti banno dal server E ti banno pure da TS E ti banno pure dai video Ok Vabbè Ok Eccolo qua Ah Aiuto Ah No Chiara Chiara Oddio Chiara Chiara Ok perfetto Bisogna stare attenti agli zombie Dunisiani Nel caso non si fosse capito Ok perfetto Stiamo attenti agli zombie Because è molto importante Ciò E stiamo Ripeto Stiamo attenti a questi Zomboidi Zomboidi Sentite venite da questa parte E più E più meglio Scherzate E più meglio da questa parte Sì è più meglio No state attentissimi Attentissimi Giangiubertino Eh Giangiubertino Esatto Giangiubertino Non so Eh c'è il signore Venga venga Signora Chiara Dobbiamo essere tutti Sneaky sneaky Tutti quanti Stealth Mi scusi allora Signore Però noi dobbiamo fare una cosa Non è che hai attivato Vero Angelo Ok perfetto Meno malo Meno malo Perché così No 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 Questo non è una buona idea Direi da questa parte Molto meglio Ok là c'è un signor scienziato Che però non ci interessa Perché dobbiamo andare A Blocks and Go Qua 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 Spacchiamo il vetro Esatto Dobbiamo spaccare il box Ci sono Esatto Dobbiamo spaccare il vetro Praticamente Perché le porte sono chiuse Però in realtà anche le porte sono fatte di vetro Quindi non capisco quali è il problema Siamo dei criminali noi Eh sì Infatti dice Oh no C'è l'allarme Eh Peccato Allora dobbiamo prendere tutto il cibo Forza amici Prendete il cibo Prendete le barrette Perché prima non l'avevamo comprata Adesso ce l'avevamo gratis Capite Non hai visto Eh beh L'allarme è stato startato dagli zombie dice Non so se la traduzione è corretta Andiamo via Andiamo via Esatto Quindi andiamo via Ah perché ha tipo L'elicottero è crollato Ha attivato gli zombie l'allarme Ok Vabbè anche se l'elicottero è così Non importa Eh perché noi scappiamo Eh amici però evitate di addormentarvi Se no vi banno Eh sì Andiamo dagli zombie Appunto proprio per questo dovete parlare di più Perché dovete scaricare la tensione no? Eh sì 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 Non mi concentro dopo Ma ok Eh allora ammazzate Però fate schifo scusate Ma ammazzatele anche voi no? Sì Cioè poi Angelo cos'è che ti ho detto Devi restare dietro di me Perché continui ad andare avanti? Eh raga c'è successo un problema Eh un problema cioè Sei morto Sì Ma come hai fatto a muovere No scusate Non sono morto Ma scherzo Non sono morto No ma com'è che muori sempre in questo punto No a me sono morto Sono morto Sì no Eh quindi Vabbè dice che qua Ci sono tutte le provviste Sì insomma Signor poliziotto Non rompa le scatole Se no le do un ammazzato Ma ho appena dato un ammazzato Al poliziotto per davvero Scusate Sì No ma io sono scioccato Io l'ho dato io No anch'io anch'io Stiamo dando mazzate a profusione Bello bello Vabbè prendiamocela col poliziotto Perché siamo arrabbiati Pensavo che ti avessi lanciato via Angelo Cos'è questo qua Ah è un signore Ok ma Eh Ma Eh cos'è che succede Signò Allò Allò È un orda No allora Se qua muoio di nuovo Sono un coglio Un cretino Salgo Ok son saluto Son saluto incredibilmente Salite 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 Porco Porca miseriaccia Eh sì Ok abbiamo fatto Siamo stati bravissimi Vero Sì 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 Andiamo in qua Corriamo Corriamo Ok da questa parte Veloci Sì andiamo in posto safe Sicuro Vai 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 Aiuto No 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 Mi sto cagando addossissimo Eh ma aiuto Aiuto Lo sapete che qua potevamo morire malamente Sì Soprattutto io che Il parkour No ma Eh si è buggato il poliziotto Perfetto No no Aiuto Ok Grazie Aiuto Grazie Grazie Chiara Angelo Ma sei morto scusa Angelo No non sono morto Ah giusto che dovevi andare da questa parte Ok vai 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 C'è stato un momento di silenzio Tipo Di incomprensione Eh infatti anch'io Eh ok perfetto Vediamo di saltare qua bene Ok corriamo Vediamo di saltare bene Uh Simone L'amunnizzo Dobbiamo andare Qui 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 L'amunnizzo Nella spazzatura Tutta quanta schifosa Allora Eh Ah brava Ok da questa parte Ok forza Saltiamo Facciamo tutto Donut Mi scusi Avremo Allora Ah dovete Dovete fidarvi Allora Quindi ci fidiamo di lui No non ci fidiamo di lui Eh infatti Perché il signor Ho un occhio più grande L'occhio più piccolo Anche perché Eh infatti No angelo Mannaggia te Comunque No noi andiamo con il signor poliziotto Molto meglio il poliziotto Piuttosto che Il poliziotto Fidatemi di me Eh sì Adesso vedi che moriamo Eh perfetto Nelle fogne Che schifo Non toccate l'acqua Così non morite Ma scusate Ma cosa è successo Ma non c'è stata la scelta Ah vabbè Seguimi il poliziotto Vabbè Aspettiamo il poliziotto Ok perfetto Aspettiamo il poliziotto Perché qua non sto più capendo niente Mannaggia A queste cose Sì svegli Signor poliziotto Vabbè senti Superiamolo Se no qua Vabbè dice Dice di andare a controllare qualcosa Non ho capito cosa esattamente Forza di qua Andiamo di qua Andiamo di qua Ok da questa parte Perfetto Andiamo Forza Ok Intruffoliamoci qua dentro Delle porti Mi ha scelto delle porte E quindi Ok vediamo No No Siamo stati rinchiusi Non dovevamo fidarci Della ciambella Mannaggia Ma non sapete di nessuno Perché non ci sono uscite le scelte No Eh infatti In effetti Cos'è successo È la preside La maestra Eh la profess La nostra professoressa Eh Eh sì perché Che fa Che fa Attenzione che questa Lancia la ciambella Ah ok ho capito Chiara fai il giro piccolo però Cioè tipo fai Fai tipo così capito Oh no no Attenzione Attenzione Andate nei cerchi No infatti Ma guarda che è abbastanza semplice in teoria Teoria Attenzione poi qua di nuovo girate Girate No sempre girare tanto Cioè non è che Capito Sai capito Ah ah Vediamo vediamo Ma che si leva sta cosa verde Dobbiamo picchiare Sbugniamola Esatto Dobbiamo picchiare Vai sbugniamo Sbugniamo Ah ah Mannaggia Karen No Signora No Signora Signora Allora Io muoio Io muoio Io muoio Eh ma guardate che dovete andare qua vicino eh Chiara Eh ci siamo però Ok brava brava Aiuto Aiuto No 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 Aiuto Ok Attenzione alle mani Ok perfetto Ci vogliono Ci vogliono mettere il posto brutto Nel posto brutto No Io ho pochissima vita Lo so che non ti piace morire però Ok perfetto Chiara adesso vieni che mi sa che È giunta l'ora Vai 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 Picca picca Sì finalmente Ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta Anch'io anch'io E sto per morire Oddio Chiara Cioè come hai fatto Come hai fatto A sopravvivere Non lo so però era muoio sicuro Dice Quindi 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 tu Eh Hai fatto la mia creazione Cos'è Sfortunatamente Adesso La mia creazione È andata Come Angelo è andato Però Potrai rimpiazzarlo Giusto 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 Ti do ragione Vabbè Ma siete proprio noiosi comunque Ma scusami Io Ho una spicchia di vita Come faccio Potrebbe rigenerarti Immediatamente Oddio no Per favore no Non voglio Allora se moriamo Finisce qua il video Io ve lo dico No 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 Per favore Ah è finita così È finita Sì finisce Che noi Che noi moriamo Bene Fateci sapere Se volete vedere Gli altri Gli altri finali Di questo gioco Bellissimo Io a me è piaciuto molto Cioè mi piace molto Questa modalità Molto bella Molto mamma mia Molto mamma mamma E quindi Niente Finisce Una lobby pubblica Non si sa perché Vabbè Boh Comunque Ciao anche a tutti i giocatori Qua Siete mai miei fan Io lo so E quindi Se siete arrivati Fino a questo punto Del video Scrivete Cos'è che era Chiara Cavo 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 giusto Scrivete Cavo Donisiani E quindi niente Ci vediamo Al prossimo video Ciao Ciao No c'è una Come senti i capelli Questa parte La lascio Chiara No